Nella giornata del primo aprile si sono registrati 143 casi positivi di infezione da Covid-19 in Puglia su 1136 test effettuati, 33 i contagiati nella provincia di Foggia dove salgono a 490 i casi positivi di coronavirus. A Lucera i contagiati sarebbero 16 ma il sindaco di Lucera Antonio Tutolo ha nuovamente manifestato il proprio dissenso sulla mancata informazione ai sindaci riguardo ai casi positivi e alla situazione dei malati dei propri territori. Il sindaco rimarca anche l'esigenza di adottare da parte degli organismi sanitari misure più attente laddove si registrano casi di coronavirus e ha lamentato le difficoltà dei sindaci nell'attuare decisioni che difendano la salute pubblica se non si dà loro la possibilità di emettere ordinanze. Infine Tutolo sottolinea il bisogno di dispositivi di protezione per gli operatori sanitari impegnati in strutture sanitarie che sono maggiormente esposti al rischio. Il comune di Lucera inoltre comunica che non saranno applicate sanzioni in caso di versamenti tardivi in relazione agli avvisi di pagamento Tari a conto 2020, già inviati ai contribuenti in data 28 febbraio e 2 marzo a mezzo posta elettronica certificata e a 20 prima rata in scadenza il 31 marzo. La spedizione a mezzo posta degli avvisi di pagamento Tari a conto 2020 che avrebbe dovuto essere effettuata nei giorni successivi all'invio a mezzo PEC con la medesima scadenza della prima rata è stata invece al momento sospesa a seguito dell'aggravarsi dell'emergenza nazionale epidemiologica. Grazie. 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 Grazie.